Loredana Bert, una delle voci più iconiche della musica italiana, ha sempre attirato l'attenzione non solo per la sua carriera artistica, ma anche per la sua vita privata. I suoi amori, matrimoni e relazioni hanno segnato gli anni più significativi della sua esistenza, vissuti con passione e trasparenza. Tra i suoi partner più noti ci sono stati Roberto Berger, Red Kanzian, Bjorn Borg, Adriano Panatta e Mario Lavezzi, rendendo la sua vita personale un turbinio di emozioni. Successi e sofferenze. Il primo matrimonio con Roberto Berger, erede dell'impero del caffè Haag, durò solo quattro anni a causa della scoperta della vera identità nascosta di Berger. Il matrimonio con il tennista svedese Bjorn Borg fu tormentato da litigi, crisi e accuse di bigamia, che portarono alla separazione nel 1992. Loredana Berth ha rivelato di non aver mai avuto figli a causa del veto di Borg sull'argomento. La cantante ha anche vissuto la tragedia della morte di sua sorella, Mia Martini, nel 1995, un evento che ha segnato profondamente la sua vita. Nonostante le difficoltà, Loredana Berth ha continuato a lottare e affrontare la vita con determinazione, come dimostrato dal suo recente ricovero per problemi fisici nel marzo 2024. Attualmente single, Loredana Berth ha dichiarato di essere casta da dieci anni, mostrando una nuova prospettiva sulla vita e sulle relazioni. La sua storia personale, fatta di amori travagliati e tragedie familiari, ha reso la cantante un'icona non solo della musica, ma anche della forza e della resi.